Roma Garden Open, siamo con Filippo Volandri, capitano della Nazionale di Coppa Davis e quindi partiamo capitano da qui, da questo torneo che è comunque storico, è un appuntamento importante per i termisti italiani e non solo, tanti giovani, tanti giovani stile italiane che tu conosci molto bene. Ti chiedo l'impatto con questo torneo oggi. Ma è un torneo importantissimo, anche sulla mia pelle ti posso dire che è stato un torneo molto importante, è stato un trampolino di lancio per tanti giovani come hai ricordato tu, un torneo poi di avvicinamento agli internazionali molto molto importante dove tanti giocatori vengono proprio per prepararsi in previsione del Foro Italico, quindi un torneo importantissimo, tanti giovani, li vedete che stanno crescendo ognuno con i propri tempi ma con una crescita costante, questo è l'importante. Prima di andare nello specifico su questi ragazzi, l'altro appuntamento della capitale di questi giorni saranno le prequalificazioni degli internazionali BNL d'Italia che tornano al Foro Italico dopo due anni, anche quella è diventata una tappa storica e per tanti giovani sarà la chance della wildcard. Quindi cosa ti aspetti in quell'evento? Ma tanti giovani, tantissimi giovani, 12 wildcard del settore tecnico, quindi orientativamente proprio verso i giovani per dargli una possibilità, una possibilità di crescita, di confronto anche nostro per poterli vedere, parlare con i loro allenatori per dare un punto, un confronto tra allenatori, per poter crescere come movimento, però deve essere presa come un'opportunità di crescita, non come un'opportunità di prestazione, quindi con l'idea di potersi giocare gli internazionali ma rispetto sempre alla loro crescita personale e di giocatori di tennis, quindi credo che sia un'opportunità che in pochi riescono ad avere, sia per quanto riguarda le prequalifiche, sia per quelli che si qualificheranno, però va presa come un'opportunità di crescita. Una crescita veloce sta facendo Flavio Gobolli, che hai salutato poco prima di questa intervista e che ha ricevuto la wildcard nel tabellone principale del Foro Italico, lo vedi già pronto per quel livello oppure credi che sarà una tappa più o meno interlocutoria per lui? Sta crescendo, sta crescendo molto veloce e questo è sicuramente positivo, ovvio che quando sei wildcard vuol dire che ancora non appartiene a quel mondo lì, ma devi prenderlo come un'opportunità per poterti confrontare con dei giocatori che sono fino a questo momento di un gradino superiore, ma che tu devi prendere ad esempio per poterti avvicinare ancora di più. Quindi assolutamente sì, Flavio ha già dimostrato di poter competere a quel livello, ma non è ancora uno di quei giocatori, ma sta lavorando per questo. È bellissimo vedere Stefano, il papà, Matteo Fago, Pasquini, insomma noi della federazione, dietro a uno dei tanti progetti che stiamo cercando di portare avanti. Yannick Sinner secondo te sarà in grado, magari anche dal punto di vista caratteriale, di trascinare il pubblico di Roma, perché alla fine senza Matteo Berrettini in campo le grandi speranze del tennis azzurro sono sull'alto a Tesino. Cosa ti aspetti dal suo fuori talico? Sì, sicuramente sì, ha le capacità e soprattutto credo che dalle finals dell'anno scorso abbiamo imparato a gestire anche molto bene il pubblico, giustamente si è fermato, non ha giocato Barcellona per poter mettere un po' di benzina nel serbatoio e ne aveva tanto bisogno, quindi tante speranze su Yannick, sicuramente sì, insomma non ci dimentichiamo Soneco che viene dalla semifinale dell'anno scorso. Matteo oggettivamente ci manca molto, ma sta recuperando, l'ho sentito pochi giorni fa, insomma le cose stanno andando bene e non vediamo l'ora di riabbracciarlo. Uno che non abbiamo citato è Lorenzo Musetti, che insomma anche gli ha ricevuto la wildcard, ha vissuto quell'esperienza indimenticabile a Bratislava proprio con te, l'abbraccio di fine partita ce lo ricordiamo molto bene e sembra anche ripresa, perché poi il 2021 ha chiuso male, ma sembra quasi tornato il Musetti che tutti ci aspettiamo. Sì, wildcard meritata proprio perché lui quel livello già lo ha dimostrato di avere da diverso tempo, stiamo lavorando insieme a Simone sulla sua quotidianità, quindi su allenarlo ancora più, come quantità e qualità, sta riprendendo, sta riprendendo molto bene, dal punto di vista mentale sta lavorando tanto, visto il periodo difficile dell'anno scorso, sta bene, sta molto bene, ha una grandissima voglia, deve solo giocare. L'ultima, non posso non chiederti della Coppa Davis, perché poi ci sarà questo girone a Bologna, quindi tornerete, torneremo a giocare in casa, manca tanto però, insomma, se ne parla, tanti di questi ragazzi, magari anche alcuni qui presenti al Garden, faranno parte di quel gruppo, lo stesso Coboli che è stato il stesso uomo a Bratislava, tu già un po' ci pensi? Sì, no, io ci penso quotidianamente perché poi la relazione che ho con i giocatori di Davis è veramente quotidiana, 365 giorni all'anno, quindi è vero che settembre è lontano, ma poi noi lavoriamo tutti i giorni per arrivare preparati a settembre, nelle prossime ore ci sarà il sorteggio, quindi è proprio questione di poco per sapere quali sono i nostri avversari, la fortuna di giocare a Bologna, di giocare in Italia, il girone è importante e da lì dobbiamo ripartire comunque da poter sfruttare il fattore casa, il fattore pubblico, cosa che abbiamo visto come quanto ha funzionato a Bratislava, dobbiamo farlo funzionare anche per noi. Cosa rispondi a chi ti critica sul doppio, che è un po' il topic della Coppa Davis? È sicuramente una parte importantissima del nuovo format di Coppa Davis, l'Italia ha tante coppie, ha Berrettini, Sinner per esempio, ma fino a questo momento non ho mai avuto purtroppo Matteo a disposizione in Davis, Fognini, Bolelli, è assolutamente una coppia importantissima, non ho avuto Simone per quanto riguarda Torino perché avevano infrazioni alla costa, non ho avuto Fabio a Bratislava per uno stilamento al Polpaccio, è vero che Settembre è lontana, però dobbiamo cercare innanzitutto di arrivare tutti insieme e tutti sani, poi vediamo. Grazie, in bocca al lupo. Che dà ecco.